ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi noi parliamo di un argomento molto interessante cioè da quando alle donne è richiesto di depilarsi come è iniziata questa moda mania dolorosa molte volte di depilarsi per le donne è iniziata negli anni 20 questa è la risposta breve negli anni venti era più un'eccezione che altro e trent'anni dopo è diventata un imperativo e quindi oggi noi parliamo di questo argomento di come le industrie della cosmesi e della moda hanno reso poco accettabile scoprire gambe e ascelle che non sono perfettamente lisce capitolo numero 1 nel 1920 a Lawrence in Kansas il caso di una donna che si era tagliata con un rasoio nel tentativo di depilarsi le gambe finì su tutti i giornali trent'anni dopo quegli stessi giornali erano tappezzati di pubblicità di lamette e creme depilatorie femminili e sfoggiare gambe e ascelle al naturale era ormai considerato poco consono che cosa accadde nel mezzo come si passò da un estremo all'altro secondo alcune ricerche questa rivoluzione di costume sarebbe da attribuire a due fattori uno l'evoluzione della moda due la potenza della pubblicità terzo aggiungerei la guerra allora capitolo numero 2 tutte coperte nei primi anni del novecento le donne semplicemente non avevano bisogno di pensare ad avere gambe o ascelle lisce gli abiti dell'epoca erano infatti molto molto accollati a maniche lunghe e con gonne fino alla caviglia di rado lasciavano qualcosa di scoperto e prima del 1910 la defilazione era appannaggio di attrici ballerine e praticata per gli interventi chirurgici capitolo numero 3 lisce sul volto secondo christine hope che è una storica che si è occupata di questo tema studiando riviste manuali estetici del tempo una certa avversione per i veli esisteva già ma ad essere presi di mira erano quelli del viso del collo e degli avambracci gli unici a non essere effettivamente coperti da tessuto da materiale capitolo numero 4 come dee le cose cambiarono negli stati uniti a partire dal 1915 quando sulla rivista di moda hoppers bazaar iniziarono a comparire pubblicità che mostravano disegni di donne con ascelle in plumi in genere questi advertisements queste pubblicità erano fatte per commercializzare creme depilatorie e le creme depilatori di allora erano niente rispetto alle creme depilatorie di oggi nel senso che le creme depilatorie di allora erano fatte di materiali caustici che si usavano per i maiali detto in altre parole la nuova moda prevedeva abiti senza maniche ispirati a quelli delle statue greche e romane e le braccia femminili iniziavano a uscire allo scoperto il tono degli annunci era piuttosto direttivo e più che suggerire diceva alle donne quale trend seguire infatti c'era un sein c'era un motto che era la donna di moda dice che il sottobraccio deve essere liscio come il viso capitolo numero 5 lisce d'estate nel frattempo la tecnologia aveva fatto passi avanti con l'invenzione di rasoio di sicurezza con lame intercambiabili che risale al 1901 e delle creme depilatori istantanee che non erano più fatte di alcune sostanze chimiche assolutamente pericolose e che risale al 1919 gli anni venti quindi videro un progressivo innalzamento degli orli le pubblicità sempre più spesso menzionavano la necessità di avere gambe lisce il 66 per cento tra quelle su haves bazaar secondo le ricerche della hope anche se di rado ne facevano l'unico target in ogni caso si trattava di annunci stagionali concentrati da aprile a settembre e all'epoca la depilazione era soprattutto relegata ai mensi estivi in cui ci si scopriva di più capitolo numero 6 lisce per forza negli anni 40 la depilazione era ormai divenuta la norma il 56 per cento degli annunci su haves bazaar era ormai focalizzato unicamente sui prodotti per la depilazione delle gambe e il tono per chi non si adeguava alle regole era infatti quello di biasimo una pubblicità del 1939 recitava le calze alle caviglie al campus vanno bene le gambe pelose no alla fine degli anni 50 la trasformazione era ormai completa nel 1964 il 98 per cento delle donne americane tra i 15 e 44 anni dichiarava di essersi depilata almeno una parte del corpo capitolo numero 7 in italia la moda di depilarsi le ascelle arrivò verso la fine degli anni 70 sulla scorta di quanto già avveniva da un decennio negli usa e passando attraverso la mondo della vicina francia dove attrici come brigitte bordeaux davano l'esempio e quindi questa è la storia ancora una volta di come noi ci lasciamo influenzare dai dettami della società detto ciò però ragazzi fateci sapere che cosa ne pensate se avete trovato questo video interessante noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video per oggi questo è quanto se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale lasciare un like attivare la campanella e soprattutto soprattutto commentare qui sotto noi ci vediamo alla prossima ciao